Un saluto da Dr. Palmas, ti mostro un caso di denti fissi senza osso in mandibola. Questi sono dei particolari impianti che sono molto utili a risolvere dei casi di atrofia grave della mandibola. Pazienti che hanno perduto completamente i denti nella parte inferiore, in basso, qua vediamo un impianto dentale su un lato e uno sull'altro lato, sotto periostale. Questo è un tipo di impianto che ci permette di rimettere i denti fissi su quei pazienti che non hanno più osso in mandibola, nella zona posteriore. In questo caso specifico abbiamo utilizzato degli impianti fatti su misura, che vengono inseriti ad abbracciare l'osso sotto la gengiva e permettono di rimettere i denti senza andare a rischiare di rompere la protesi facendo i cantilever, ovvero quelle protesi che non hanno impianti nella parte posteriore, che reggono tutto su quattro impianti qua nella parte anteriore. Questo tipo di interventi è importante che vengano eseguiti dai KIP che fanno rutinariamente questo genere di chirurgia, ma soprattutto che la protesi sia avvitata. Fai attenzione a chi ti propone questo tipo di interventi con le protesi incollate, cementate. La corretta procedura è quella di avvitare poi la protesi sopra i multi unit abatment, che sono queste parti qua dell'impianto sui quali entra la vite di ancoraggio poi della protesi. Chi non ha mai fatto questo tipo di intervento non te lo proporrà, ti proporrà piuttosto l'allonfor dove metterà qua davanti quattro impianti dentali e dietro ti dirà che questi saranno sufficienti per rendere i denti a sbalzo senza gli impianti dietro. Semplicemente perché ha paura di proporti un intervento più costoso, ma che in realtà ti costerà di più non farlo quando scoprirà che i denti dietro si rompono, che scoprirai che l'osso attorno a questi impianti nella parte anteriore della mandibola si sta riassorbendo. E soprattutto questo è un tipo di impianto molto indicato su quei pazienti che i denti davanti ce li hanno ancora e che non è un'opzione toglierli, estrarli, quindi toglierli per fare l'allonforfe. Attenzione a questi atti criminali dove ci sono chirurghi che straggono i denti sani nella parte anteriore perché dietro manca l'osso. No, l'osso se manca dietro si fanno gli impianti su misura che evitano di andare a toccare il nervo mandibolare. Ho tracciato su questo progetto anche le zone dove passa il nervo all'interno della mandibola e qua puoi vedere chiaramente che in questi casi in cui il nervo è molto vicino al profilo osseo è possibile andare a utilizzare questi impianti in tutta sicurezza che permettono di essere i denti nuovamente fissi ancorati anche in mandibola anche se non ci avevi più l'osso.